Lui, ore 1229, Manfredi, assente, la Bagnale, c'è il signor Bagnale, al momento assente, la Bagnale, presente, Mario, aspetta un momento, assente, la Bagnale, assente, la Bagnale, assente, assente, Borrelli, lo visto, assente, Cagliasso, assente, ci vedo sempre presente, Grazie a tutti. 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 in cui non si svolgono attività istituzionali, ho fatto un accesso agli altri perché capito quali cartelle esattuali erano, se per queste cartelle esattuali effettivamente gli immobili per cui sono stati destra i cartelli in alcune di Napoli si svolgevano meno attività istituzionali sul termine, se ci sono altre cartelle esattuali, altri comuni della città metropolitana, dove la città metropolitana è proprietaria di immobili, di proporzioni immobili, sui quali cavallino, e tutto questo si legge a facendo l'accesso all'agenzia delle tante espressioni della città metropolitana in Napoli e eventualmente anche a servo di scala. Ad oggi devo ringraziare la velocità con cui mi è stato risposto a questo accesso agli altri che non è comunque sufficiente perché quello che è arrivato sono solo degli schemi dove non c'è, non è completo, perché non ci sono le notifiche, non ci sta praticamente tutto quello che io insomma approfondirò in questi giorni. L'intervento mio è che il suo periodo dal fondo di Visebba per attività programmabili non è proprio del tutto fattile per chi va a riferire e fa una sana e prudente pubblica amministrazione. Poi vedremo se solo il Comune di Napoli ha avuto questo politico di dicembre 600.000 euro per programmazione e vedremo se erano tutti i 600.000 euro. Lei ha fatto una comunicazione e ho comunicato alla SEMRE che su questo argomento ci saranno approfondimenti da parte della Commissione della Sparenza. Ok, iniziamo il cuore di domenica di domenica. Posso, Presidente? Perfetto. Visto che dopo circa 6 giorni sono state distribuite, sono state spacchettate, spacchettate, io voglio parlare di alcuni di buon lavoro, la consigliera, non la società, 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 non la società. Anche se purtroppo mi vuole dirlo che questa legge elettorale per i consiglieri metropolitani è molto strana e secondo me è stato un esercizio, mi vuole dirlo, ma non ve ne voglio andare a salire, no, ma dalla terra molto importante a un consigliere che è da SEMRE a se stesso mi sembra una cosa abbastanza eclatante perché se noi diamo la terra grande scuola a un consigliere che fa parte del gruppo 5 Stelle che è da SEMRE da se stesso, secondo me questa città giornalità è da volerlo oggi, ma domani partire da subito, perché qua bisogna parlare di rappresentarsi. Nel frattempo io rinnovo gli auguri a Italia che fa parte della direzione delle nostre scuole e a quanto pare devono avere un nuovo flaggio perché oggi sulle scuole abbiamo delle nostre problematiche e dei nostri problemi per risolvere quali problematiche. grazie 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 una testa che si ripartita con la macchina di inizia e racconta una missione unica, quella del nostro signore, del nostro Presidente, di fare in modo che possa funzionare. C'è una testa che in dubbio perché per me la nuova dosente ci sarà un po' di collaborazione, un'attività moderata, un'attività moderata, un'attività moderata, un'attività moderata, un'attività moderata scolastico e quindi faremo anche in modo che sia in violenza che effettivamente la scelta più durata e accorgia, ma i vari motivi a qualche insegnante. Quindi grazie al Palazzino per il Consiglio per la seconda possibilità del scolastico. Grazie Buongiorno, buongiorno a tutti Scusate il mio ritardo, il mio ritardo è impegnato alla ricerca di un passaggio, diciamo, diverso da quello che ha messo nella tutta la Consiglia. Buongiorno a tutti Grazie Allora, Quali i giornali , le pubbastiglie, dei uomini, dei realità di FMI, ci dicono che, che è a costume, io uso il suo io, e all'ordine, che è a testa nativo, un mal costume, quindi raccontavano che il fatto che il prezzo di Stiamo di soffermare che cosa è è un, è una quasi Scusate, è una costuma che ovviamente ha visto il ministro non è un malcostume che bisogna eliminare da tutti quanti partiti io così ero troppo come raccomando che tutti in sua età questo malcostume nemmeno lui o li rappresenta è un invenio poi è un'intera sindaco vengono a prendi io ho avuto ospite con me che in mattina per inattare il primo centro dell'evento dell'Università ci siamo fortunati nella città con i dati di sindaco di città metropolitana perché finalmente ascoltando anche le nostre annosegure richieste siamo tanto felici di tutta questa suddivisione delle terre che nella città metropolitana è 17,8 è un po' una procedura presa in vita però finalmente ha tolto quello del contubbio rispetto alla propria afragolese se avesse o meno dovuto ricevere queste terre sopra con complimenti ha avuto la spera di collaborare con tutti e così come non faccio con un altro antico quasi quasi Presidente non posso che come direvi so che avete fatto una prevenzione di una sospensione perché veramente gli argomenti erano tanti per cui voglio dire è chiaro che condivido la mia pensiera di dati anche se tutta la propria forza di là non è arrivata in tutto il fatto grazie passiamo quindi al punto successivo che è il punto 2 la tipica dell'applicazione di finanziamento che riguarda il progetto che è propensibile euro 1805.281 2,40 progetto di giudizio di nato via ghani 44 città di violenza PNR commissione 5 in corso di pensione ok sul punto se non ci sono interventi passiamo a prossimo adesso quindi chi ha paura del punto 2 chi si estiene allora si estiene come c'è l'applicazione all'aria non c'è lì con guanci e felice chi è contrario quindi potremmo anche ridare di seguità del lato chi è a favore chi è contrario a chi si estiene come prima ah dominiamo anche i soldatori dominiamo Perzella passiamo al punto successivo la rica della variazione di bilancio allora passiamo al punto successivo punto 3 la rica della variazione di bilancio nel comprensivo euro 268.984.59 l'oggetto insomma del decreto che è portato al punto c'entra di bilancio piena è la rica è la rica è la città di bilancio e non è questo se non ci sono interventi come prima passiamo alla votazione chi ha fatto ah ce lo scuso ecco c'è anche una relazione di delegato come ti dice siamo andati dove c'entra di bilancio e da loro ne ha fatto un motivo di un atto perché abbiamo la prima testa di bilancio o le donne in cui il bilancio non viene conquistata c'è almeno un delegato che ci siedi che cosa che cosa dobbiamo fare poi magari non gli interveniamo nel medio ma almeno parliamo di un certo argomento c'è qualcuno che dice c'è un po' almeno il ruso se no c'è un po' a io ti chiede la loro sindaco il depredo la scuola trattasi di la parola non si riempa di nuovo con il controllo trattasi di beni confiscati è una materia abbastanza stricolosa di bene il sindaco felice ma in questo caso stiamo parlando solamente di una ratifica di un inserimento a bilancio di soldi che trasferisce a più che con i progetti che possono essere eseguiti queste lavorazioni per attuare questo città di violenza non è una questione di trasferimento di risulta non è una cosa di per un strazzo di città metropolitano o dei comuni e se sono di città metropolitano poi li gestiremo noi li gestiremo li per di città metropolitano non le del gruppe lo gestiremo noi nei termini l'affidamento la due delle rifatte una manifestazione di evidenza ci sarà una associazione una operativa un po' attente che abbiamo visto dalla delibera per fare regolamento e domanda e entrare in possesso del bene con una attualizzazione sempre sotto le città metropolitano grazie ok grazie chi richiede la parola se non ci sono altri che ben passiamo la situazione chi è a favore del tutto chi è contrario chi si estire come prima che votiamo anche dire di sottiliare l'altro chi è a favore chi è contrario chi si estire sempre come il passiamo al punto successivo punto 4 la statifiche lavorazioni di filancio avendo accettato l'inrogrammazione per gli comprensivi euro 1.7 milione 7.500 7.500 7 interventi di cooperazione della direzione tecnica scuola 1 finanzata da 9.3 europeo ex generation europeo chiede la solito punto la parola della domenica carina allora la nostra consiglio seguita prevede arrivo per passare che i dipotiti di 7.500 euro sono potete con parteci Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. sbagliata, perché non subisco il massimo ripasso, ci risolvi dei problemi, diciamo come il progetto fatto bene. Per cui c'è bisogno di chiarezza, ma questo è un certo capito, c'è bisogno di un'attenzione del segretario maggior su qualsiasi quadri quadri e a qualsiasi figli, creano un sacco di problemi e soprattutto ci hanno dato questo richiamo dei matri, perché secondo me era un matto brutto. Grazie. Grazie. Ringraziamo il Consiglio Ficciccio, sono giunto l'attività e l'attività che stiamo all'operazione. Quindi chi è colore dell'attività del punto 4 ha un'attività di presente. Vogliamo anche evitare di sottilità dell'atto, chi è colore, come il primo. Punto successivo. L'attività della versione di Caccia con il smonto di 458.636,47 se progetto, marato di Tango, libero da 74, spazi di conto socio-tulturato per i suoi. Piede tra le elezioni e cinque di conto socio-tulturato per i suoi. Piede tra le elezioni e cinque. Se non ci sono gli interventi passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. A favore? Ci sarà qualcuno che ci darà l'elucidazione di mezzo alla stessa cosa? A favore? Chi è il contrario? Chi si aschiene? Allora, se sei cos'è rimanato tra l'aria, l'ocerino, l'attività di sottilità dell'atto. Chi è a favore? Chi si aschiene? Come prima. Passiamo al punto 6. La visita della versione di filaggio del punto di vista di euro 754.010, ha un'attività di programmazione di 6 interventi di competenze, di competenze della direzione tecnica su quale di voi, piazzate da alcune proprie ex-generationalistiche. Chi era la seconda? Grazie. Grazie. c'è la scuola del tempo c'è solo il tempo e lo relaziono io chi è il chile d'ador se puoi ripartare a una data di boschi nessuno è un po' di italia no, nessuno è un po' di rilascio di rilascio io è un po' di rilascio di rilascio in Italia è un po' di rilascio di rilascio comunque senza aver preso il rischio comunque se le analisi è un po' di rilascio sono due macchina se qualcuno faccio l'intervento allora faccio l'intervento è il consiglio allora se hai lasciato qualche domanda ci sono qui è uno stesso ragionamento delle stesse parole e dei stessi concetti che abbiamo fatto in intervento precedente questo è un po' di rilascio di rilascio che è esattamente identica e precisa a cui la precedente farò sicuro che io rilascio tanto sull'intervento di rilascio se abbiamo bisogno di rilascio quindi ci sono interventi qual è il consiglio di rilascio? grazie grazie presidente voglio intervenire soprattutto a domenica del giorno ma anche sugli altri punti che abbiamo trattato tutti importanti di variazione per le grandi risorse grazie a un'attività dalla città metropolitana il PNR ci chiede protagonissimi soprattutto per quanto riguarda gli interventi alle scuole allora permettetemi di dire due cose importanti uno che se noi otteniamo un'attività abbiamo delle grazie coordinatorie dirigenti e lavori che forcono attenzione soprattutto la struttura permettetemi di fare due considerazioni portate noi siamo qua come parte politica votando queste variazioni ma dall'altra parte c'è un lavoro certosino di tutti i dirigenti che devono godere il nostro appoggio e supporto perché sono il motore pulsante e gli obiettivi li mettiamo in campo come parte politica soprattutto ho avuto modo di riconoscere loro un grande valore di capacità di onestà di trasparenza e soprattutto non ho mai riscontrato frequentando gli uffici da parte dei dirigenti e di governatori ma la loro immensa disponibilità nella parte politica e consentito di dire anche un ringraziamento anche al dottor De Agnes che purtroppo è un grave incidente siamo a vita ricordiamocelo tutto e non ho sentito in tutto questo tempo parlare del dottor De Agnes che purtroppo è un grave incidente e è più per un caso e ora sta in di merito e il lavoro ordinario è certosino che fanno tutti tutti i benedetti dal primo al l'altro voi siete un valore aggiunto di grande capacità e di espressione e di risultati della politica che possiamo ottenere nella nostra città metropolitana e questo è un rito d'altra voce ed è un riconoscimento che dobbiamo fare noi tutti i consigli perché se raggiungiamo gli obiettivi dobbiamo dire grazie a loro c'è sempre da fare c'è sempre da impianare ma come si mette in gioco la politica su tutte le cose che si fa si mette in gioco tutti i dipendenti in questa straordinaria macchina della città metropolitana io a volte sono stato critico attento su alcuni di ma mi sento il dovere di ringraziare dal primo all'ultimo per il lavoro straordinario che ho fatto e per la fiducia per la trasparenza e per il modo elevato di lavorare che non è da poco che ho potuto riscontrare prego che ho avuto i migliori da sette anni conoscendo le persone per l'altro valore per l'altro valore e amore per quello che fanno e non è da poco e mi dicano un applauso perché noi come città metropolitana in Africa siamo l'esempio della capacità di spesa di raggiungere gli obietti e soprattutto nel campo della scuola dove mettiamo in campo una grande sconfissa con i conti PNR noi stiamo rispettando le teleprinzioni si lavori mattina mezzogiorno e sede interrottamente e posso garantire che ancora oggi noi di cui anderemo anche le decisi oggi sia che andiamo dirigente ingegnere rapide prima ingegnere di anche non ha mai rifiutato una teleprinata e pur chiamando altre persone non hanno mai rifiutato una teleprinata allora quindi se dovete dire complimenti a tutti perché grazie a voi consentite di raggiungere i obiettivi alla politica alla politica di tutti grazie 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 Perché io ho fatto delle richieste specifiche e ci sono presidi e dirigenti scolastici che dicono il contrario di quello che stai dicendo tutti i dati. Le cose non fanno per il messaggio e poi con questa lettera, scusami, non è come la nuova consigliera alle scuole, ma deve relazionare quella che adesso ha avuto la terra e la consigliera a Salerno. Quindi tu che adesso hai la terra sulla mia zona, credo che io ti dà un più fastidio che mai. Però a prescindere dai fastidio che io ti darò, io in prima persona vado a dare fastidio oggi attualmente al dirigente che dà un giorno. Perché io molte volte mi sono scontato con il dirigente che si è incontrumato, perché quando a prescindere dalle cose si è incontrumato. A noi non ci possiamo fare niente, quindi la mia solidarietà, spero che si riprenda presto per lei. Però io che mi sono molte volte scontato con le scuole, ho aperto sempre un banco, perché ogni volta che io chiedevo delle lucidazioni per le scuole, sistematicamente a me mi danno notizie. Mi danno notizie, i presidi, che le nostre scuole della città più comunità, a prescindere da tutte queste belle parole che voi state dicendo, secondo me hanno grossi problemi di agibilità. E poi, guarda la mano, mi farò vedere che tutto quello che io sto dicendo è tutto vero. Tutto quello che ha detto il consigliere Ocelino, condivido in pieno tutto quello che ho detto, tanto è vero che io, prima del consiglio metropolitano, sono andato da segretario comunale a fare uno sfogo, dicendo che molte gare che vengono espletate da questo consiglio sono a quanto discutibili, perché se è una casa sulle scuole, sulle scuole, parliamo sempre di scuole, su ogni quadro partecipano due, parla tre, aziende o di terze comuni c'è qualcosa che non va. E tutti i consiglieri metropolitani dovrebbero andare a vedere e a notare determinate cose, non solo lui di centro-destra, perché poi a prescindere dai colori politici, noi dobbiamo fare il bene delle scuole e soprattutto il bene dei nostri figli, perché i nostri figli vanno in queste strutture. Quindi il mio intervento sulle scuole sarà sempre costante, perché tra tutto quello che ha detto Vito è condivisibile in tutto, perché i nostri dirigenti sono grandi dirigenti, a prescindere da quando io vado a distrubbarsi sistematicamente. Però è pur vero che molte volte, molte volte, il carico di lavoro è troppo, e spesso la politica ha fatto qualche errore. Credo che questo sia la cosa che vada, discussa anche delle nostre condizioni, che sistematicamente non ha rispetto a qualche consigliere che viene dalla mattina in commissione e gli altri stanno a casa. E questo non va bene. Quindi, come ho detto un'altra volta, che c'era anche il simbago a Venti, ma al finale queste condizioni che non funzionano, ma perché non le rivolgiamo? È solo una presa in giro. Se noi le facciamo funzionare, è utile che io vengo tutte le mattine e gli altri consiglieri se ne prendono. Perché questo anche rispetto per i consiglieri che vengono sistematicamente per il bene dei territori. Grazie, Presidente. Pensiamo che consigliere... Facciamo la consigliere Marlaccio, poi poi ritroviamo in terra e facciamo il ciclo di rettica per la consiglia di Marlaccio. Prego, consigliere Marlaccio. Grazie. Grazie, Presidente. Per il consigliere Marlaccio. Lo farei auguri alla... Allora, lo sapevo che non è ancora la terra, la terra, la terra è riuscita. Io ti sento un po' di sicurezza, questa nuova registratura che suddivide le patrie e le gambe era qualcosa che è statissimo. Mi ricordavo di istruzione e di istruzione sono la storia. Però, molti, tra i poverti anni, il consigliere Marlaccio sono dovuti soprattutto a questo, perché non c'era nulla gestione politica di ciò che aveva le testo. Ovviamente questo è un altro dubbio, questo proverimento. Però, se noi, come diceva sempre, il consigliere Marlaccio facessimo musica nelle commissioni, lavorando nelle commissioni, questa è una delibera della sindacamera dell'ottobre, del 18-18-2023, oggi, quindi, si alzava solo esclusivamente domani, quindi potremmo anche rendere più sulle i consigli metropolitani, così come negli altri valori di bilancio. Perché, quando si fanno le valori di bilancio, si usa l'avanzo di amministrazione. Penso che sia opportuno di unirsi tutti i consiglieri e decidere in che modo utilizzare i soldi di bilancio. Perché è vero che noi stiamo utilizzando il patrimonio di Torrezio, i fondi del PNR, però questi qua sono soldi che sono stati messi negli anni con l'avanzo di amministrazione per le scuole. Quindi, in me dire quello di far funzionare le commissioni, in questo caso la commissione bilancio, e di unirci al di là del ruolo che a noi siamo in un stato tra l'altro sindologico a relegato di ignoranza, perché è stata una scelta, ovviamente, personalissima del sindaco, non è vero che il sindaco di un sindaco di ignoranza che rappresenta un milione di abitanti, rispetto a tre milioni di intera città di un sindaco di amministrazione, sempre di una primaranza di legato a quelli dell'amministrazione. Il vero fuori è quello, e su quello sempre è il legislatore seguito della sentenza della voce costituzionale del 2021 che ha invitato il legislatore del generale merito. Non è possibile che il sindaco di un sindaco che rappresenta la finanza di abitanti sia anche il sindaco dell'amministrazione di tutti i temi o di tutti i mali trans. Questo è il nostro produttore di un istrattore estendere bene. Ovviamente conosco molto bene i dipendenti, non solo ai politici, di un sindaco e tutti i temi della città di un'unità perché sono nove anni che si è tra questi dati e tutti hanno sempre svolto un ottimo e grande lavoro. Così come il coordinatore parlando delle scuole il coordinatore De Angelis che ha svolto un ottimo lavoro fino a di sé pacche causa forza raggiore un futuro che ha avuto quindi faccio il lavoro e non vieni che penso che vinderanno e hanno avuto una domanda qualsiasi uomo così come sta facendo l'ultimo ordolo il ingegnere Gaudino che come coordinatore e anche dirigente di una direzione tecnica lo sta a svolto che noi poi non dobbiamo confondere il proprio coordinatore che ha anche arresti dirigente e amministrativo di le scuole che abbiamo anche un'altra direzione tecnica nelle scuole che il ruolo è trovato dalla dottoressa De Camino che ha sempre svolto questo punto di maniera svolgere un'ultimo lavoro quindi dobbiamo davvero fare attenzione di ciò che diciamo in questa ora che dirigente erano sempre svolto al di là di chi è il sindaco e quale forza politica si trova in un'antoranzia in un'antoranzia e un'antoranzia in un'antoranzia in un'antoranzia in un'antoranzia in un'antoranzia al di là dei politici e dell'antoranzia sanzioni quindi io lo dirò ovviamente come l'altra variazione di bilancio relativa all'antoranzia della un'antoranzia favorevolmente perché le scuole sono un fruco come diceva l'antoranzia penso sia una delle delle importanti che abbiamo qui in città trabologate perché non dimentichiamo che abbiamo un 360 oltre 276 anche se ultimamente qualche serie sta aumentando il nome dell'investimento come ho scritto io dal capo dell'amministrazione quando ha inaugurato un istituto presso una serie di nomi di proprietà di risultazione e quindi non sono spese di investimento ma stiamo tuttando i soldi non so se chi è rispetto a due anni fa vi abbiamo avuto un aumento un aumento dei finti passivi di vertici dopo sette anni che i finti passivi sono scesi da 13 che non è non è meno più ora i finti passivi sono aumentati più del 20 quindi c'è qualcosa di e l'anno i delegati ad essere vincere per vivere grazie a minzare scusse ma lascia la l'anno che c'è l'internet ma devo dire che sono abbastanza diciamo perplesso agli interventi dei colletti succesi in questo momento perché c'è un passaggio la prima cosa credo che tutti quanti abbiamo detto è un punto qualificante credo che il sottoscritto abbia specificato e salutato dal dottor De Angelis che ha avuto anche spiegato che su cui ha un incontro e una persona ha una completa vicinanza da parte di tutti di tutti i consiglieri gli amministratori nessuno escluso ed era un dato e poi si faceva una valutazione di una tuta tecnica in un è sembrato a buona parte di consiglieri presenti da ragionare soccorso che c'era negli ultimi mesi per esempio un passo che diciamo incoraggiare questo è il dato che abbiamo messo in diretta quindi tutti quanti insieme abbiamo avuto la stessa cosa su questi destino che vedo continuamente emergono i interventi farmi invece comprendere qualcosa di diverso quello che vi do una notizia da quanto si risposta di sono belli articolari l'impattito è importante a volte è anche acceso noi abbiamo un bel pubblico che ci segue da casa e che a me sono lecita spessi ma domani quando lo vai aiutare il consiglio tre ore tre minuti questo indicativo il nostro dibattito apporti anche acceso però piace la gente vuol dire che finalmente il ruolo di città metropolitana ha assunto anche a livello diciamo all'euro della popolazione perché è sempre visto come un ente intervento invece adesso ci sta iniziando a seguire la gente comune con la consapevolezza di iniziare a comprendere ecco come vedete ci stanno collegati in molte fattispecie della nostra vita quotidiana in termini e terminano i miei portaggi quindi noi a questo pubblico che ci segue a casa ci dobbiamo anche dare soddisfazione quindi sono contento per esempio che il consigliere di rito sia stato fortunato sulla via di Damasco perché nel suo intervento sono tutti in grado della prima lut ma io non ho mai sentito una parola che non c'è segretario generale è segretario in grado di prima lut o perlomeno l'ho sentito molte volte con questo consiglio metropolitano dire che è questo condivisibile molto spesso le armi tematiche della città metropolitana sono scollegate politica l'ho sentito sottolineare questa difficoltà da parte della politica di dare il giusto indirizzo e controllo che poi è il nostro ruolo allora oggi però mi fa piacere saluto apposto per cui mi metto tutti quanti ben insieme appassionatamente sono felice vuol dire che le cose vanno persa e i bambini se vanno bene vanno bene dei 30 milioni di abitanti di cui parlava il consigliere Maralazzo una cosa che voglio sottolineare alla pagnale del commissio l'essentese il ragionamento fatto sul controllo perché la patologia la dobbiamo evidenziare la dobbiamo prendere l'intestinazione se è vero che è vero che il ruolo di questi cambiappalti è sempre lo stesso questo non lo dice il consigliere Mocerino o Peticcia o Pagano che si limita la concorrenza che non rispetta i principi di legge che non rispetta il turno del famoso questo non lo diciamo noi lo diciamo a leggere e è compito ovviamente di noi contro ma di chi è delutato in primis il segretario a fare modo di questo ma anche lo stesso in genere a fare modo di questo non affetto quindi mi va dire massimo affetto per le agili se ne risuono il prononamento di natura personale oggi però noi vogliamo dire a dirigere i nostri che mi raccomando non usare lo stesso metodo di misura cadere il gruppo al mico non dico ma fare una rotazione continui è il nostro ma non dovremmo dirlo perché il buon decennio è cautivo dovrebbe essere a conoscenza che questo è uno dei suoi pochi questo è il quadro finanziamento e farvi e farvi questo giugno per farvi arrivare e finanziare alcune elezioni non ho tutto però se tutto questo deve essere a riscaldio dei nostri studenti dei nostri cittadini questo lo vi sapelli ti porto l'esempio ed è classico noi andiamo in questo consiglio metropolitano da più di otto anni agli altri votato più volte l'ambiamento dell'istituto scambi dell'istituto superiore che c'è sul mio territorio è un'opera da base da dieci anni di più città da otto anni approcata dal consiglio metropolitano otto anni che ci chiamano quindi anche qui ottimo lavoro per la chise consigliera per dare un ragionamento per darvi un'idee e quindi per quanto a noi ce lo facciamo per poter e ad oggi questo avutamento che sia necessario per evitare i loro più duri per non far fuggire gli studenti dal nostro territorio è stato trasformato come dici switch switch off rock come se ho dire due e lo stiamo ancora aspettando mi hanno raccontato mi dico che la voi dovremmo iniziare il 3 ottobre noi siamo al 24 come dici domani si è bruttività che faremo nella mia città contro la violenza delle donne contro la violenza di genere alle 4 e mezza con super mi aspettano ma detto come dici noi siamo al 24 bambini 25 9 e così stiamo non so quattro ovviamente la nostra capacità di necessitare finanziamenti e di fare le opere deve essere una capacità che ha un tempo e soprattutto che ha una fide non è la capacità di che è in essi bene sono attuali che ha scelto la cosa cagliatrice grazie a tutti la parola che ci vuole che lo compie con questo intervento grazie la parola da consigliere secondo giro a bagnare giusto per fare appunto mi ricollego a questa azione a questa azione nel senso lato del consigliere a casa che ha richiamato insomma la prima di presti non la maggiore inaugurata attenzione alle scuole ma lì nella città o verso mattacone non è la notazione di questo è che comunque resta fie con il giorno che sono condividi la ricognizione dell'apprestamento dei piatti non le so risorse di recuperare risorse di riferire e non potremmo in realtà di insomma stata guarda la ragione che un finanziamento per l'adeguamento di opere comunque scolastiche e che siamo assolutamente che sono progettate e comunque la sostanzialità di un'avanzio oggi è l'opera tutta la realtà della nazionale di residenza in mio mio attenzione alla io che ciò ci sono molti ma ho di appartenenza i vostri comuni non credo di sottolineare di studio comune piuttosto di comuni io sono assistizio della scolastica ma assistizio di scolastica di questo consiglio e sono più nessuno anzi mio impegno il mio cercare sempre la sottoline sottoline trasferire quello che è strada è il nazionale dell'analisi che ha partecipato alla nazionale di residenza perché non tutti i comuni sono riusciti a salvare l'obiettivo di una nazionale di residenza morotti ma lo rinunciamo così come anche tante comunità della nazionale che quindi semplicemente è la visione di quello che è stato un obiettivo straordinato perché dal punto di gestionale si sta lavorando bene la protezione della sottolinea che si deve anche duritariamente che soltanto con la nostra presenza del territorio si potete trasferirci entrambi i debesi o potete direttare la presenza sulla scuola stessa quindi l'impegno professionale adesso non è in giocato però la sottolinea è un valore aggiunto e che non voglio bastare di solitina distraendolo da cosa ancora più importanti come ha detto facendo che quella che era sapato anche la saparenza si dà la spiegare sugli accordi guardi sull'attenzione che sono l'impegno che consiglio ma sicuramente con materia che parla sottolinea sottolineare di convenienza voglio anche una piccola parola verso di genere angels che vuole le ricchezze più belle e conoscenza che ha avuto il questo percorso ancora apprende come consiglio della solitaria quindi anche io asmo il proghiaggio che stessiamo già comunque ripetuto obiettivamente dall'assumido apprenda per effetto e la città di con una persona sin che hanno l'ultima invece la considerazione che ha portato consigliere di picccia in realtà l'idea che magari un cavale di tardi tra i dettamenti della multitudine di anziani di personale prevedanti che è famoso da parte dell'edente che si creano in testa brutta e dà l'accordo per avanti che può essere destinato ad impedire con anche che è spazio fatte da testore perché mentre c'è la stessa esigenza che sta su posto in casa ma ancora un progetto ma c'è una realtà difficilità che l'opportunità di avere il progetto e poi di accolto il PNR ma l'avanzo ci dà l'opportunità di fare un'analisi vale un'area nazionale tra c'è avvertutto le autorità perché non esiste il comune di insomma sanitario sanitario piuttosto che dobbiamo essere articolati se non si viene tutta l'affrontamento comunitario di Napoli e mi sono ripresa nel intervento di Napoli semplicemente e ripetemente che mi consiglia l'antimato a bella oggi magari che mi ha accosti senza l'ora non se ne ne vengono ancora in questo momento l'ultima cosa è il pubblico da casa che non ci guarda perché quanto facciamo dare la sanitario politica ma ci guardano tutti che sai con carli da un banco o dall'altro sarebbe a portare e rimettere la giudizia quello che è la popolazione della città di Napoli posso prego allora consigliere vai di ritardare niente molto di sindaci perché di sindaci però molte volte sempre fa pesare questa cosa di sindaci allora volevo solo ricordare quanto riguarda come disse che Angeli stava sottoscritto che parlava di la gerarchia quando io chissi del altro consiglio della gerarchia ovviamente io vado a lo sconto perché io che vengo letto prendo la gerarchia e vengo il consigliere di come stato i sindaci in questo consiglio fanno consigliere metropolitani quindi oggi noi stiamo a lo stesso livello di tutti perché se un consigliere metropolitano 32400 500 e poi diamo la tenta a persone a consigliere di ad presentare 200 e noi ne rappresentiamo a nessuno quindi io ho fatto la domanda specialità che per quanto riguarda la voce di assoluto del gioco dove vado a presentare la 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 quotidiana sa tutto quindi io ho gesto di presentare in modo come avete fatto voi visto che avete spacchettato la domanda io per quanto riguarda il canto di passo io l'ho sempre sponsorizzato diciamo un canto di passo quando parlo con le scuole stiamo andando forse meglio forse ma non credo ma non credo che le cose per il momento vanno proprio come state dicendo voi perché a prescindere dal fatto che oggi noi consiglieri dei popoletani soprattutto sulle scuole dico sempre soprattutto sulle scuole abbiamo anche grosse difficoltà con i genitori che ci chiamano per quanto riguarda la manutenzione perché forse ho sbagliato e ci siamo già in mezzo ma se in una scuola i bagni non funzionano diciamo che ci sono dietro che lo vi danno io bypassco la retrica perché quando riguarda la retrica non conta niente scusarla allora quando ti chiede il secondo mi dici ho la retrica e non hai niente che si dica questa retrica quindi con ragione a teatris quando ho parlato di gerarchie perché prima diceva c'erano gli assessori che contavano per la retrica non mi fanno niente quindi per me chi era la retrica massimo rispetto però io quando ho un problema completamente esantificente e non vado già la retrica può c'è qualcuno può c'è di vendere un avesso poi avviare lo scusso a proprio giusto valente questo è quello che volevo dire grazie ok ok se se laura è presente o giro cosa si è con te la musica ha parlato di questa notte può e poi possiamo passare la votazione di la notte che è assolutamente la notte noi che mettere della tele ma sono al vostro servizio di la ragazza scontra di me con questo momento e allora voglio utilizzare io richiamo il sindaccio non era per comparare insomma il ruolo questo consiglio ma per comparare semplicemente i sindacci dei impegnanti per passare siamo perfettamente in realtà siamo oggi a scadenza di scelta e semplicemente semplicemente ok quindi dopo il discorso mettiamo una fase di conversione chi è a favore di punto 6 alla limitare presente votiamo anche di direzze pubblicali tanto chi è a favore come qui passiamo al punto punto 7 il bilancio di confesire 150 mila per la diminuzione in parole di personale avvocato in due carri delle azze e sentenze di contatto si ci sono gli interventi c'è l'avvocato si può dare la proposta parola al nostro massimo modo confuso testo parola proposta è una proposta che è un altro dovuto in quanto evidenzia una diciamo una maggiore qualificazione di una previsione di entrata legata alle semplici di soccompensa della ritrovazione siamo parlando di questo caso di un consorzio per la ripostruzione per il sede remoto in effetti ci si tratta di un adeguamento di quelli che sono i documenti di bilancio a questi maggiori credi di valutare l'anno di insercizio quindi lascerei la parola ragionina generale che non viene poi un di di altro perché non ha dovuto discussione a po' fare questa cosa non lo capito a bene perché forse noi diciamo un po' le altre non riesce a capire perché è un altro tutto possiamo fare siccome possiamo pure fare a prima rispetto ai questi sottotitoli dopo sottotitoli a non c'è un d'un 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 C'è la loro famiglia di prezzi, cioè il loro famiglia di prezzi, non è sempre dei cosa che ho fatto, dobbiamo andare in tempo, perché non sono riusciti a fare niente da delibera, il corpo di la delibera. Allora, noi parliamo di una serie di cause, di cui queste facoltate, di loro significativi e di cui siete sempre portati a conoscenza, anche con la relazione annuale che facciamo. Parliamo cioè dei compromessi tra consorsi concessionari per l'organizzazione delle opere per la legge legge di 1921 e città di Europa, causa anche per tutto il contesto su scatolere per la realizzazione della circolazione esterna. Allora, noi abbiamo tantissime cause che, molte di queste, si sono risolte, favorecometri per la realizzazione. Quindi, all'esito di queste sentenze, ci sono state delle remunerazioni dei consorsi a riscaldare per i soldi. Quindi, per questo motivo, noi abbiamo proceduto a fare un accertamento e a mettere queste soldi di premedia e poi abbiamo, con questa delibera, questa proposta di premedia, diciamo, regolarizzato, con il profilo contattile, queste poste proprie, facendo quindi, diciamo, formalizzando un cavo questo credito anche nell'anno dei documenti di rinunci. Questo è tutto. Consigliere, credo che il consigliere potesse, come è chiaro che questo è un accretario che neanche la sentenza, che è in favore del personale, che già oggi, diciamo, fa esercizio nel nostro ente, per cui c'è un regolamento, perché, che specifici, in che modo questo personale è un regolamento, per esempio, nel mio comune funziona che i potenziosi in cui siamo difessi dagli avvocati, siamo difessi dagli avvocati assolutamente, le potenziosi, loro quota parte di queste, diciamo, degli onorari, dentro del direttamente lavorato, tutta parte resta, in ogni caso, attente, l'ente comune. Mi immagino quindi che ci sia un regolamento, in che modo questi diritti poi vengono, vengono, ecco, suttivisi tra coloro che hanno fatto queste cose. Grazie alla domanda, perché così chiacchiamo un aspetto, come dire, fondamentale, perché lei, secondo me, diciamo, tendenzialmente, ragioniamo in una razione di bilancio, deve entrare i soldi, questo è l'atto che approviamo oggi, e forse poteva aiutare il consigliere a spiegare, a spiegare a 10 anni, ma non solo, cioè, è proprio, questo è proprio che riguarda il servizio finanziario, voglio dire, mi comprendo. Allora, per quanto riguarda, appunto, la sua domanda, in ultima, è l'esistenza di un regolamento, un regolamento già dopo il contratto diretto nazionale, sia della rifigenza, quindi del il compatto delle enti organi del 1998, è stato disciplinato. Nel 2014 Renzi ha fatto la prima disciplina organica per quanto riguarda i compensi delle abitazioni. Quindi quella riforma ha interessato sia la abitazione del Stato, sia anche la abitazione del Stato. Stato scelto, lo sapete, con l'elevenzione, dall'opzione di un regolatore, che però si scompe a determinati questioni. I requisiti quali? Il requisito appunto della rotazione degli intanti tra i personali e i programmi, il requisito della valorizzazione delle professionalità ci ha avuto a seguito appunto del primo regolatore sia. E quindi, sulla fase del punto di questa normativa nazionale, è stato portato un regolamento. Stiamo parlando dell'ultimo periodo in cui c'era la presidenza cesare. Questo regolamento è già all'2014, fine all'2014. Quindi il decreto Renzi è stato lanato a giugno dell'2014 come decreto legge, poi è stato conferito, è stato scusa, convertito a settembre dell'2014. Cioè quel regolamento è stato evocale anche generale dell'automobile, è impattato anche con il decreto legge sul personale tecnico. In quel momento è stata appunto esclusa che i dirigenti tecnici potessero vedere un cerchio. Proprio oggi quell'evento c'è stata evoluta questa possibilità da PNF, ma sono limitatamente a questi tipi. Quindi, diciamo, chi è adottato questo regolamento? E questo regolamento fu impugnato da funzionari educati, perché il tecnico che potesse, appunto, incidere su quelle risorse delle regolazioni di dipendenza che la giurisprudenza, oramai la giuritaria, riconosce già con l'automobile. Quindi, sulla base di questa, diciamo, causa, appunto, è stata appunto poi pronunciata dalla sentenza del Tart Carvalho, che ha, diciamo, annullato in alcuni punti questo regolamento, fissando quegli principi che dovevano essere rispettati, in effetti empleavano proprio quegli principi che erano contenuti nella forma di grado di mare, cioè del Tart Carvalho. Noi abbiamo fatto questo regolamento, e questo regolamento è oggi considerato. se noi, appunto, andiamo a vedere anche i vari conveni, i compi di studi, che sono fatti sulle, appunto, sulle regolamenti del Tart Carvalho, perché viene portato ad esempio. Perché è un regolamento che, da un lato, voglio dire, ha una funzione premiante nei contenuti del singolo professionista che ha svuoto unità, ma dall'altro garantisce anche una ridistribuzione di una parte di subito a tutte le standard del suo lavoro. questo regolamento. Questa cosa funziona, ha funzionato con uno strumento, ma che ha identica questo tipo di indipendio, laddove è sicuramente fu di legge un criterio, o meglio un regolamento, o meglio un regolamento, cioè fu di legge, un regolamento che volesse ripartire in fatti uguali le stesse subito, perché nella legge, appunto, primaria, c'è scritto finalizzata a valorizzare, praticamente, da un valore individuale. Quindi, diciamo, i criteri sono predeterminanti nell'ambito del nostro regolamento. Noi abbiamo un sistema informatico, che è quello che è un regolamento. Mi scusi. C'è anche il regolamento che si è approvato nell'amministrazione che si è successa, che è intervenuto con una sentenza di età che l'ha parzialmente natuato. Successivamente si è approvato un nuovo regolamento. Sì, questo lo sto dicendo. Cioè, il regolamento è stato animato dall'amministrazione e poi è stato diventato. Quindi è stato emanato un rumore, un rumore, un rumore che è praticamente risposta a tutti quei requisiti che aveva indicato l'amministrazione. Ovviamente, sto dicendo che quella sentenza, nel tanto affario, è portata, ad esempio, in tantissime altre, alla loro strutture. Voglio dire solo una cosa. Io non ho discrezionalità. Quindi, la distribuzione, che si è rosa nel conflitto di interessi, la distribuzione è avviene in maniera matematica, sulla base in piena, segnalando l'utilizzo, qui parla che c'è qua, e la vostra è risposta che viene distribuita e parla di tutto il resto. Poi l'ultima cosa. In questa delibera, vi sono anche sulle somme che aspettano, queste somme non è che aspettano, aspettano sempre a lente, poi nel discuseranno il ruolo. Ma la parte di quelle somme che sono indicate, sono somme che aspettano a lente, perché a tempo, hanno sottolineato il quindici per cento del ruolo spettacolo, e poi hanno i grossi. Quindi, parliamo di quasi 40-50 mila euro che devono andare. Quindi questo è, diciamo, il per quanto riguarda la variazione di bilancio dell'erio 250 mila euro per la dividizione proprio del personale educato insieme al personale regale. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si assegna? Tutti a favore. potremmo anche evidenziare dal lato e dietro a favore, come prima. Punto successivo. Quali azione di bilancio del potenziale euro 40 mila per il documento dell'erio 250 mila euro per l'erio 250 mila euro per l'erio dell'erio 250 mila euro per iblici interiore. Grazie Grazie. Punto successivo. Qulakte il vostro! No Myrona presentato Billetro, è organizzato il vostro coloro stuvo contro augmentekte in memoria fins lucidesRO Grazie a tutti. 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 , a tutti. 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 , a tutti. a tutti. , , a tutti. , 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 ,, , , , , , ,, ,, , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, , , ,, 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 ,,, ,,, ,,, ,, Grazie. Grazie. E finisce. Grazie a tutti i dovolta. Allora, to quello che stavo già da delegato, Mokea, Miko, Gaudiucci, 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 allora, da inizio della Giacomo, si già c'era, a me lo sato che c'era un inizio, che mi ho vedete, se svolta, che è stato già stato un'inizio, un'intenzione che la città metropolitana pretesse questa variante. Subito, io, al Consiglio Metropolitano, ho fatto un'interrogazione per quanto riguarda questa acquisizione, chiedendo, ovviamente, prima al amico di Gaudiucci, poi all'incendio di Gaudiucci, e anche al sindaco, se c'era la possibilità di passare a città metropolitana, l'interrotato, visto che c'erano stati numerosi incidenti da alcuni mortali, di ragazzi, di cui anche qualche parente, perché quella strada era sempre disastrata, visto che i comuni, a Financio, non avevano le risorse per mettere sempre in sicurezza questa strada. Quindi io, preventivamente, chiedevo all'amministrazione e metropolitana se c'era la possibilità. il cammino è stato abbastanza confuso, però credo che oggi siamo arrivati alla fine. Volevo fare un piccolo esercizio. Anche dalla minoranza si può fare qualcosa di interessante per i dettori, a prescindere dai colori politici, visto che parecchi sindaci dell'intera area sono di centro sinistra e io mai ho guardato il colore politico, ma pensi per i territori, cosa che fa sistematicamente anche la città metropolitana. Quindi, io vieto anche io, come ha fatto il consigliere delegato di un voto grande, ringraziando soprattutto l'ingegnere, l'ingegnere esatto, tutto il suo regolaggio, ringraziando il delegato di un regolino, il sindaco da Ferri e soprattutto tutto il consiglio metropolitana e consigliere metropolitana. Grazie. Ringraziamo il consiglio di un'area, se non ci sono interventi, altri interventi passiamo alla loro ragione. Quindi, chiede a favore da questo punto, numero... numero 15. che è il contrario a chi si assiede a tutti a fronte. Potremmo anche il miglior risultato del lato, nel favore? Sì. Così, così come va. Passiamo al punto successivo. La tipica della variazione di bilancio in attività di urgenza condividere per il rischio di investimenti per l'acquisto della produzione del concorso fuori funzionale di proprietà dell'opportunità. in Pistria. Il figlio di ricordo è una parola che si tratta in Italia. Non sto chiamando la parola. Grazie. 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 Soltanto a partire lo scorso settembre il Comunista ha consegnato gli allevamenti per la stata necessaria per un'ottima cosa del effettivo e quindi noi siamo qui a rilontare e impegnarci per pensare a persicurare questi atti. Di valore aggiunto cosa c'è rispetto alla vecchia vita? C'è che c'è un accordo che ha dato una maggior opportunità perché in questo sicurezza il Comunista e il Comunista, oggi siamo in procedenza di acquistare anche quella che era la base di custode che se vi ricordate era esclusa ma era tutta la scursora, in più l'amministrazione del Comunista porta a caso la possibilità di trasfunzione di una semplice, perché insomma il sito era comunque interessato anche alla distanza del centro dei limiti e condividono gli accessi e le riabilità a scursi della scursa. Quindi l'opportunità è di dire al Consiglio di vivere nuovamente e dare fiducia all'amministrazione e alla città della comunità di compagniare questo attesto. Sto stanzi ha parlato molto sull'opportunità di acquistare il minimo un problema di questo sito, si è parlato molto sulla possibilità di credere, per esempio il divastito, che ci ha parlato anche di consigliere Marrazzo, non si può ragionare in maniera un'area su ogni comuna, invece da più di un'animata, il trasparente, il compravato, anche i disagi, il senso di un'attività di autentica, ci parezzano quello che è il confronto dedicato solo a l'insole, ma che è meglio la la Commissione Unitaria e che è meglio di non farlo passare sull'ordinata l'opportunità di acquistare il sito e di trasportire la patata scolastica e di risolvere l'opportunità di avere un'animità scolastica al tema del culturale, del territorio e della pazienza. Quindi l'invito è a raccogliere di impegno e della pazienza di estazione per questi due anni e di rispondere a un'animità che è stata fatta in un'animità, che è stato fatto da un'animità, che è stato fatto e che è stato fatto da un'animità scolastica e che è stato fatto da un'animità Grazie. 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 il più facile possibile. Per cui ci ho tenuto nel passato a sottolineare questa modalità un po' atipica che accade per questo EPE, ma questo non esula il Consiglio Quattrofondrano, lo stesso consigliere Pelliccia, a fare in modo che sia soddisfazione agli studenti, perché poi il nostro lavoro, l'obiettivo quale è quello di migliorare l'offerta scolastica in un momento storico che è da quella che veramente bisognerebbe partire dell'editare dell'allontanamento dei nostri giovani, dei tanti ragazzi che vanno a studiare il cuore e che poi si formano fuori e che poi restano più a lavorare e va operando il nostro patrimonio personale di grandi economi, pensate quali investimenti facciamo oggi in tutti i nostri ditti economici per farli studiare. Volevo approfittare perché a me piace l'aria per la vera che ci mette nei suoi interventi nel lavoro che fa, ma spesso tratta i nostri ragionamenti in maniera un po' troppo scolastica, questo lo dico rispetto all'intervento precedente, no? Se è chiaro che noi abbiamo un progetto esecutivo in un comune e quindi non utilizziamo per fare il finanziamento del suo PNRR, è chiaro che noi facciamo un'opera, diciamo, l'editoria per quanto rimanda le finanze del lente, però non puoi paragonarlo al comune di Sant'Antonio Padre magari non ha il progetto e quindi l'avanzo si utilizzerebbe per il progetto, ma non è un problema, diciamo, di finanziamento, è un problema di mancare l'accettazione, di mancare la programmazione. Un ente che funziona come funzionerà sicuramente il tuo comune, è un ente di mancare l'accettazione varia, variegata, portata al massimo livello, al progetto esecutivo, è sempre pronta per ricevere tutti i finanziamenti. Questo per dire che il paragono rispetto all'avviamento dell'Istituto, lo sapete, lo so che ho facuto come sempre, è un paragono per un progetto. Noi dobbiamo portare la nostra programmazione, i nostri progetti allo stato massimo, bisogna anche creare, che era facilmente intercettato per, come ha fatto un esempio, i progetti di solito, la comunità di Sant'Antonio Padre senza dover prendere, no, da un altro progetto esecutivo già finanziato. Come invece, purtroppo, e anche a volte non cumulato, noi diciamo, non è un progetto, se non è un progetto, se non è un progetto, se non è un progetto, esecutivo, se non è un progetto esecutivo, se non è un progetto esecutivo, dobbiamo dare scelta la funzione di finanziamento, per cui, se poi noi la cambiamo, è comunque una forza dura, per cui preferire che ci siano progettazioni contanti per tutti i comuni, quanto più allo stato, diciamo, a maggior sì, in maniera, da quanto è, ciò, fixate, un progetto esecutivo, che ce l'abbiamo, da parte, lo utilizziamo con un altro finanziamento, qui, chiarezza e ricarezza di progettazione, di progettazione, che stanno, il cambio di passo del, 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 che ho fatto, lo faccio, lo faccio, lo faccio, volevo fare i complimenti al consiglio e a parte, per il punto successivo, ho ridotto, fatto un solito, ad esempio, come si è, è un bravo, dico, però la prossima volta, in faccia, come, precedente, sì, però la prossima, se pensiamo, quando andate, ma, il geniere, salvo, no, ma no, ripetiamo tutti quanti a calcio, ok, la prossima volta, che in questo consiglio, nel corredore, mi dici, che salvo, così, salvo, con lei, ci arrabbiamo tutti quanti, quindi, concludo, si è detto, ed ha amici sfidati, perché il sindaco mi dice era contro, era contro, l'ampliamento del servizio delle scuole, dell'ampliamento, dell'offerta formativa scolastica, rispetto a questi scuole, si è detto più volte, amici sfidati che l'hanno, sottolineato il quadro giornalista che ha chiamato autorità al servizio, voglio confermare un punto, se ci dovevano, ci sono state delle decisioni importanti, importanti su questo punto, era solo per la procedura tipica che si sta utilizzando e che, comunque, ottiene il nostro punto favore. Noi vogliamo che il cittadino contatto sia un'eccedenza, al livello nazionale, sullo spettacolo politico scolastica, in mani che sia capace quindi di fare stare qua i nostri giorni e di non passare a studiare, a sottolineare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. noi, a tutti. 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 grazie. noi, a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. che. 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 a tutti. significa. a tutti. 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 che. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. . . . a tutti. . 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 Punto 16. del primo del primo del giorno. che è il riconoscimento del tecnico di Minagini del 1794 per contemplanza della sentenza del Tata Campania da numero 437 del 4272 a scala del importo 5274 ricordate voi. chi è a favore? ti lo scusa ai consigli un po' di attenzione potesemente abbiamo finito allora Come abbiamo stabilito, come giustamente suggerisce il funzionario di Verani, noi abbiamo votato la commissione del 2012 del giorno alla regola del concilio. Adesso che cosa succede? Siamo arrivati al punto del retorno integrativo, il numero 18. Dovremmo discutere il punto 19. Faccio la proposta di impressione del punto del retorno del giorno perché tra il 18 e il 19 discuteremo prima il punto 16 del primo punto dell'attuale convocazione del retorno del giorno, che sarebbe il riconoscimento del retorno del bilancio per il conto dei 595.000, per esempio il 74,3% e poi seguire tutti i gruppi. Chi vuole a favore della proposta? Chi vuole a favore? All'unità dei presenti. Quindi adesso portiamo a protezione della proposta, appunto, se bene, se è punto 15. Chi è a favore? All'unità dei presenti. Mi ringrazio che vi dà il fatto come prima. Secretaria, stanno uscendo dei consiglieri con chiesa e niente faccio il suo voto d'appello per verificare la verifica del numero legato. Grazie. 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 Grazie.